Devoto a Padre Pio, ma l'impatto mi è rimasto proprio scioccante proprio, una cosa proprio non si verificava da anni e anni e anni, non l'ho mai sentito, poi quando ho sentito questa cosa sto proprio, stiamo un po' abbattuti. Siamo rimasti un poco senza parole perché non ce l'aspettavamo, però già il Papa precedentemente aveva detto che un Papa può andare in pensione se le sue forze fisiche non se la sente più di continuare. Vivere già a Pirolcina è il discorso di pregare, pregare ogni giorno è un dovere presso se stesso, presso il Pontefice che è il capo della nostra congregazione che comunque è la nostra religione. Oddio, mi è sembrata una cosa abbastanza strana perché il Papa per noi è un'istituzione quindi pensavo che era una cosa che arrivava fino alla fine. Certo è una cosa che ci ha lasciato un po' così di stucco, però io credo che al di là di chi sia il Papa bisogna comunque sempre pregare, al di là della figura del Papa bisogna pregare per la Chiesa. Non è che ci siamo rimasti tanti bene comunque, siamo rimasti molto meravigliati di quello che è successo, non ce la rispettavamo. Noi ci atteniamo alla sua scelta e continuiamo a pregare sempre, anche per la Chiesa, per tutti.